Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente ora risolto tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Sempre verso Firenze, code a tratti tra Navacchio e Cascina e code in uscita a Cascina. Sempre in FIPILI, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. E' chiuso per lavori lo svincolo di Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo fermo al km 306 tra Firenze Sud e in Cisareggello. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!